eccoci qui con chiara teocchi ancora un po convalescente dall'infortunio però è presente a stanziano di montagna perché corre il suo team trini di racing e sicuramente gli farà il tifo e poi insomma so che si allereranno nei prossimi giorni tutti insieme scusateci innanzitutto per i rumori un po ma c'è anche un rally qui in zona e insomma dai il bello del del video ciao innanzitutto chiara e grazie della disponibilità parliamo un attimo della tua bici sì ciao a tutti come hai detto prima purtroppo domani non correrò però sono qui mi è stata consegnata oggi questa bellissima bici è una colorazione molto particolare è una limited edition del team quest'anno sia il team road che il team mountain bike di trinity avrà appunto questa colorazione che è un travi letto immaculato sul blu e è uno slogan che è scritto appunto qua in verde fosforescente che è lo slogan del team che è calm from chaos è un po la filosofia del team di quest'anno e appunto perché il team trinity è un team molto di disciplinare quindi a mountain bike ciclocross strada cronometro diciamo che appunto un insieme di tante discipline però un team appunto un progetto che vuole formare atleti da portare poi nelle categorie più alte bene allora innanzitutto vabbè la bici la conosciamo benissimo perché ne abbiamo parlato tantissime volte colorazione particolare parliamo un po un attimo del setup e sospensioni rock shox gomme nuove diciamo gomme specialist presentate lo scorso anno ci dici un po che pressione utilizzi se utilizzi inserti nelle gomme no non utilizzo inserti e la pressione dipende anche molto dal percorso su questo percorso c'è fatto circa due giri e ho 1 e 15 davanti e 1 e 20 dietro senti quindi hai scelto la mescola t7 delle delle gomme l'anno scorso mi ha fatto un po di test giusto su sulle mescole sì esatto perché c'è la controlla t7 poi c'è t5 t7 che cambia un po sempre la mescola e quindi noi appunto facendo parte di un team specialized abbiamo momenti anche per testare i vari materiali appunto come sarà al prossimo ritiro dove testeremo qualcosa di nuovo e quindi niente è anche il bello di far parte di un team factory senti per altri altri dettagli tipo corona davanti pedivelle dacci un po di numeri ma la corona davanti e adesso un 34 pedivella da 170 e secondo me la chicca veramente anche di questa bici è la sella che esatto è una sella che è stata lanciata l'anno scorso e una si chiama la mirror perché è fatta con una tecnologia tridimensionale e io la trovo veramente comoda soprattutto per le donne è veramente veramente comoda senti invece pressioni sospensioni oddio allora adesso stiamo facendo qualche qualche modifica 115 davanti e 50 dietro senti il brain come lo utilizzi come impostazione tutto chiuso se non sbaglio dipende anche qua dal percorso sono certi percorsi in cui magari lo apro metà lo tengo invece chiuso tutto dipende molto dal percorso per dire un esempio novemesto studio molto il brain in base al fatto sia asciutto bagnato l'anno scorso che era bagnato l'ho tenuto metà aperto senti l'ultimo dettaglio diciamo sul computer in wow che voi siete sempre sponsorizzati ho visto che insomma lo utilizzi che ne pensi diciamo differenza rispetto ai ai competitor ma allora io in passato ho usato altri marchi di computerini e questo mi trovo veramente veramente e soprattutto sul sul fatto della navigazione mi è capitato di fare tra virgolette qualche avventura con la bici da gravel e questo computerino è fantastico ha un'autonomia veramente alta e mi trovo benissimo non è uno penso dei migliori che abbia mai provato grazie mille chiara e in bocca al lupo per la ripresa ci vediamo alle prossime gare grazie mille